Sulla sicurezza non si può arretrare. È quanto dichiara Carlo Petaccia, coordinatore regionale di Filtem CGL per Abruzzo e Molise, all'indomani dell'incidente avvenuto sulla piattaforma del Leni a largo di Ancona, in cui è apparso la vita a Egidio Benedetto, l'operaio 63enne originario di Montenero di Bisaccia, ma residente da anni a San Salvo. L'uomo aveva un'esperienza pluridecennale e oggi avrebbe dovuto lasciare la piattaforma per il suo periodo di riposo, ma per lui ha deciso una tragica fatalità. Le infrastrutture che reggevano la gru che Egidio Benedetto stava manovrando hanno ceduto e il 63enne precipitato in mare con la cabina di controllo della macchina che stava utilizzando. Morire di lavoro inaccettabile nel mondo dell'Eni. L'Eni è un'azienda conosciutissima a livello internazionale che fa molta prevenzione e quindi è ancora più stupore che oggi questa morte sia legata, crediamo, a una mancata prevenzione perché è ceduta una gru. Ci saranno le indagini, sicuramente le segretarie nazionali hanno fatto richiesta di capire bene cosa sia successo, però resta il fatto che è inaccettabile, comunque anche nel mondo, morire di lavoro. Questo credo che sia gravissimo. La procura di Ancona ha aperto anche un fascicolo sulla vicenda per l'omicidio colposo. Si parlava di Egidio Benedetto come di un operaio, 63enne, quindi con un'esperienza anche pluridecennale alle spalle. Lei che idea si è fatto di questo incidente? Egidio è una persona che era prossima alla pensione, mi dicono anche i delegati che era una persona capacissima, sicuramente sapeva fare il suo lavoro, quindi non riesco ad immaginare. Poi il povere Egidio è ripescato stamattina, ma ci sono altri due operai che sono in gravi condizioni, non in pericolo di vita, perché hanno avuto grossi traumi. Quindi parliamo di tre persone che hanno avuto problemi su questo incidente. Io credo che la prevenzione non è mai poca, credo che l'ENI debba assumersi la propria responsabilità di questi fatti, come credo sia facendo.